Atletica gratuita nella città di Agropoli, per i ragazzi dai 9 ai 16 anni, a cura dell'Atletica Agropoli con il presidente Angelo Palmieri. Parliamo di questa iniziativa molto bella e interessante che coinvolgerà le fasce giovanili della città. Sì, buongiorno a tutti. Abbiamo lanciato quest'anno questa iniziativa grazie all'assessore D'Arienzo, al sindaco Mutali Passi, perché volevamo arrivare alle fasce più debili della cittadinanza offrendo lo sport che noi reputiamo un diritto per tutti i cittadini, per tutti i ragazzi della città di Agropoli e non solo. Quest'anno partiamo con un progetto pilota che interessa solo i bambini della città di Agropoli. L'anno prossimo siamo certi di riuscire ad allargarci ai comuni limitrofi, essendo la pista Pietromennea un punto di riferimento ormai del territorio per l'atletica leggera. Siamo partiti anni fa con l'idea di creare una società solida e strutturata sia sotto l'aspetto sociale sia sotto l'aspetto organizzativo e perché no anche sotto l'aspetto sportivo. Sono i tre fulcri che ci guidano, le tre linee guida della nostra attività e stiamo riscuotendo già, ne parlavo poco fa con l'assessore D'Arienzo, un bel riscontro di partecipazione. Vi invitiamo a partecipare numerosi e a usufruire di questa opportunità che è un'opportunità per i ragazzi, un'opportunità per crescere nello sport, scoprire una delle 20 discipline dell'atletica leggera che è ampia e soddisfa veramente uno dei motti grandi dell'atletica leggera e che non si fa mai panchina, quindi si riesce veramente ad essere in attività in modo concreto e costruttivo e perché no tra voi ci sarà sicuramente qualche campione che promuoveremo in futuro grazie anche ai canali di Infosicilento. Angelo diamo solo le modalità, come si fa a partecipare, insomma come si iscrive a questa iniziativa? Allora attraverso il sottoscritto, attraverso l'atletica Agropoli sui canali social, noi vi passiamo tutti i moduli oppure sul sito istituzionale del Comune di Agropoli troverete le modalità con i moduli da compilare o riferendosi direttamente all'ufficio politiche sociali del Comune di Agropoli.